Nuova svolta per il mercato ortofrutticolo di Nocera Pagani con l'approvazione del programma di liquidazione a margine dell'Assemblea dei Socii tenuta si ieri si entra finalmente nella fase finale della liquidazione che come da programma dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno. Durante la riunione è stato posto anche l'accento sulla futura gestione della struttura mercatale. Ieri si è tenuta un'assemblea presso gli uffici del consorzio che poi sostanzialmente è stata la chiusura del cerchio delle attività amministrative relative alla chiusura della fase di liquidazione quindi agli adempimenti per la chiusura della fase di liquidazione. Pertanto nella giornata di ieri all'Assemblea dei Socii si è approvato anche il programma di liquidazione. Ricordo che già il 6 febbraio si era avuta un'altra assemblea Socii nella quale furono approvati e deliberati gli schemi convenzionali con i comuni proprietari quindi di Pagani e di Nocera. E dunque con l'ultimo con questo atto come detto prima si chiude il cerchio pertanto da questo momento in avanti io dovrò provvedere con gli uffici del consorzio a convocare gli operatori all'interno del mercato per una nuova appendice contrattuale temporanea fino al 31 12 2024 e contestualmente poi con entrambi i comuni sottoscrivere definitivamente gli schemi convenzionali che ripeto sono stati approvati nell'Assemblea del 6 febbraio e dunque rientrare nella posizione debitoria relativa al canone di occupazione del consorzio relativa al mercato degli anni pregressi da quando è stato acquisito a patrimonio il bene. Devo dire che c'è stata un'assemblea molto collaborativa, c'è stata una partecipazione univoca verso l'obiettivo comune che è quello della chiusura della fase liquidativa entro il 31 12 e tra i punti all'ordine del giorno si è poi discusso anche degli atti conseguenti alla fase post liquidatoria. Ci tengo a precisare che in questa fase il consorzio ha solamente una funzione meramente collaborativa, infatti mi è stato chiesto dai soci di rappresentare quelli che potrebbero essere gli scenari futuri che poi dovranno essere comunque trattati nei relativi consigli comunali e quindi ci siamo aggiornati poi a breve termine con una nuova assemblea nella quale poi si dovrà decidere, ma questo ripeto da parte semplicemente dei comuni, di quello che sarà poi l'assetto futuro della gestione del mercato.